La legge sulle telecamere obbligatorie negli asili e nelle case di riposo ha ricevuto il primo no dal Senato. Il disegno di legge era stato approvato dalla Camera lo scorso ottobre, ma la bocciatura della Commissione istruzione rischia di frenare o addirittura compromettere l'iter legislativo del provvedimento. Ad Arezzo era stato l'assessore Lucia Tanti a portare avanti la battaglia per l'installazione delle telecamere nelle scuole e nelle strutture per anziani e disabili. Una battaglia che era passata anche attraverso una lettera inviata a tutti gli assessori alle politiche sociali ed educative dei comuni toscani capoluogo, proprio per sensibilizzare su questo tema. C'era stato un parere positivo a larghissima maggioranza alla Camera. Al Senato si sta un po' arenando questo percorso, non è una bella cosa. Il fatto che ad Arezzo non ci sia necessità non vuol dire che il fatto che non ci sia fino ad oggi non ci possa essere nel futuro. Arezzo rimane una città disponibile ad essere luogo di sperimentazione. Chiediamo comunque sia come sempre che la politica quella romana prenda una decisione, se è sì come speriamo che sia subito e se hanno il coraggio di dirci di no che sia subito.